Una maggiore connessione con la fibra ottica ultraveloce per essere competitivi e combattere le disuguaglianze. È l'obiettivo che si è posta all'amministrazione comunale di Pesero, che oggi ha presentato i risultati ottenuti da OpenFiber, società di telecomunicazioni incaricata, come previsto dalla convenzione siglata nel 2019, di realizzare l'infrastruttura prevista per il territorio. I lavori iniziati nel luglio del 2020 hanno permesso di dotare della fibra 8.500 unità immobiliari tra case, uffici e negozi, in un momento in cui uno strumento come la connessione rapida di Internet risulta importante per lo svolgimento di attività considerate ormai quotidiane, come lo smart working o il conseguimento delle lezioni scolastiche nella formula della didattica a distanza. Il progetto consentirà il collegamento in banda ultralarga di oltre 34.000 unità immobiliari, di cui le prime 16.000 saranno attivate entro l'anno. L'investimento totalmente a carico della società di telecomunicazioni è di circa 12 milioni di euro e rientra nel piano di cablaggio previsto per 271 città italiane. I lavori che per la realizzazione dell'infrastruttura prevedono in parte l'utilizzo di opere e scavi già esistenti sono partiti già in diversi quartieri, tra cui quelli di Pantano, Muraglia, Soria, Cinque Torri, Santa Veneranda e Villa San Martino, a cui seguiranno nei prossimi mesi Villa Fastigi, Porto e Centro Storico. Anche il Covid ha voluto dire che velocizzare tutta l'area di Pesaro è fondamentale. Non dobbiamo dimenticare la periferia, quindi cercheremo di puntare anche a velocizzare la connessione nella periferia. Come abbiamo visto i nostri figli sono tutti a casa in dad e quindi è fondamentale avere questo strumento. Non solo ad oggi parliamo di transizione ecologica, transizione digitale, quindi l'innovazione deve andare in quella direzione, ci devono essere gli strumenti per poterlo fare. L'estensione sarà anche verso Soria, Muraglia, abbiamo visto che cerchiamo di allargare e dare la possibilità a tutti i cittadini di essere connessi. Ripeto però che è fondamentale spingere verso la periferia, quindi Monte Ciccardo che ad oggi è diventato comune di Pesaro e anche la parte del Parco San Bartolo.